Il Peligro nasce 24 anni fa ormai come scuola di ballo, soprattutto di salsa cubana, erueda, salsa portoricana, quindi ballo latino-americano. Poi chiaramente negli anni ha subito anche varie mutamenti, varie variazioni. Infatti noi facciamo balli di gruppo, ma da quest'anno iniziamo anche il corso di ballo lisce da sala. In più ci sarà anche il corso di ballo per bambini e ragazzi, quindi diverse novità per la prossima stagione di settembre. Poi c'è anche la parentesi fitness che me ne occupo io. Entriamo nello specifico, questo weekend è un appuntamento importante per Santa Maria Maddalena, la fiera tra l'altro molto seguita anche dai ferraresi e voi sarete i grandi protagonisti. Che cosa succede dunque domenica sera? Sì esatto, è una serata importante anche per noi perché è la nostra sede storica, quindi ci aspettiamo grosso coinvolgimento del pubblico. Domenica presentiamo una carellata di circa due ore di balli latino-americani e non solo, sotto forma anche di musical, così intratteniamo il pubblico di tutte le età. Faremo festa con il pubblico dalle 21.30 circa fino all'arrivo dei fuochi. Succederà di tutto, vedremo del samba, vedremo dei musical con Latin Assol, di tutto insomma. Che significato ha per voi questa calda stagione che vi porta in giro in tournée? Beh, significa intanto trascorrere l'estate tutti insieme, cercare di far divertire il pubblico che ci viene a trovare nelle varie piazze e significa far vedere ciò che abbiamo fatto, che hanno fatto i ragazzi durante tutto l'inverno perché non dimentichiamo che i ragazzi lavorano tutto l'inverno, due volte a settimana, dopo il lavoro, per due ore e mezzo, tre ore ogni volta, proprio per le prove, proprio per riuscire a mettere in piedi lo spettacolo che poi portiamo in giro durante l'estate.